Si sono concluse nel più drammatico dei modi le ricerche del 25enne scomparso da Rezzo lo scorso venerdì sera. Questa mattina attorno alle 10.30 è stato infatti ritrovato il corpo senza vita del giovane. Si trovava in mezzo alla vegetazione sotto il ponte di Pratantico dove da giorni si erano concentrate le ricerche. Il ragazzo si sarebbe gettato volontariamente a poca distanza da dove erano state ritrovate sabato mattina le sue scarpe. Un paio di espadrillas grigie. Proprio lì ieri si era fermato il cane molecolare senza andare oltre. In quel punto aveva infatti perso le sue tracce. Questa mattina si è reso necessario anche l'intervento delle squadre attrezzate in disposcamento del consorzio di bonifica per individuare il corpo. Nei giorni scorsi avevano partecipato alle ricerche anche i sommozzatori arrivati da Firenze che avevano passato al setaccio il canale maestro della Chiana senza alcun esito. Questa mattina infine dopo quattro giorni di ricerche il tragico epilogo che ha interrotto così la macchina delle ricerche. Sul posto i carabinieri della stazione di Arezzo, i vigili del fuoco, la protezione civile e il consorzio di bonifica. Dopo il ritrovamento e le successive fasi di recupero il corpo del 25enne è stato trasportato all'obitorio del San Donato di Arezzo a disposizione del magistrato la dottoressa Elisabetta Iannelli.